E' la... Questa è Youtube Italia Cioè ci vuole tanto a capire che i clickbait, le challenge sono stronzate Cioè bisogna adattarsi in poche parole a Youtube Peccato Comunque per chiudere questo video breve ma intenso Spero che molti di voi abbiano capito Anzi abbiano capito Messi me lo tengo Cioè era una provocazione Cioè perché su un canale di 10.000 iscritti Quando chiedi mi piace, quando fai il titolo clickbait Quando fai queste stronzate prendi mi piace Diciamo fai crescere il tuo canale Quando invece porti cose innovative fatte bene Non si cresce Vabbè Youtube è una vergogna Da questo punto di vista E vabbè non si crescerà mai Ciao